Settore delle costruzioni in ginocchio, domani sciopero generale dei lavoratori, parteciperanno alla manifestazione nazionale in programma a Roma circa 300 lavoratori lucani, rappresentanza dei 15.000 addetti alla filiera. Continua la sfilata di Big in vista delle elezioni regionali stamane, tappa a Matera per il vice premier Luigi Di Maio, in Basilicata anche Giorgia Meloni, nel weekend tornano Salvini e Berlusconi. L'aviosuperficie Enrico Mattei di Pisticci Scalo si avvia a diventare il primo aeroporto di Basilicata, ieri il Consorzio Industriale di Matera ha approvato il progetto di gara. Sanità doveva sottoporsi ad un controllo urologico fissato un anno e mezzo fa, ma tre giorni prima arriva la telefonata di disdetta dal CROB, l'Istituto Oncologico si scusa, mancano medici. Le terme la calda dilatronico diventano del comune, il protocollo firmato in regione a Potenza. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova tv, lo avete sentito dai titoli, domani sciopero generale dei lavoratori delle costruzioni, parteciperanno alla manifestazione nazionale in programma a Roma circa 300 lavoratori lucani. Questa mattina le tre sigle sindacali hanno comunicato alla stampa le ragioni della mobilitazione. Sentiamo Michelangelo Russo. Illustrate alla stampa le motivazioni dello sciopero generale di otto ore dei lavoratori delle costruzioni che si terrà in tutta Italia. A affermarsi sarà l'intera filiera del comparto, cantieri, fabbriche del legno e dell'arredo, cave, cementifici, che danno lavoro a circa 15.000 addetti in tutta la Basilicata, 5.000 in meno rispetto al periodo precrisi. Alla manifestazione di Roma in Piazza del Popolo sono attesi circa 300 lavoratori lucani del settore che raggiungeranno la capitale a bordo dei pullman messi a disposizione per l'occasione da Filca, Filea e Feneal. Noi abbiamo messo in piedi questa iniziativa proprio per sensibilizzare e portare la voce dei lavoratori edili e di far conoscere la situazione reale di questo settore, sia in Basilicata ma sia anche a livello nazionale. Ci teniamo tantissimo a fare questo perché non è più sopportabile questa crisi che si sta portando avanti. È un settore che ha dimezzato quasi gli occupati nell'arco di un decennio da quando la crisi si è paventata, quindi dal 2008 ad oggi si sono persi 100.000 posti di lavoro. Per quanto riguarda la Basilicata siamo in linea con queste percentuali nazionali. serve dare una scossa, rimettere in modo un po' l'economia e per questo ormai da tempo si è deciso di fare uno sciopero con questa manifestazione nazionale per mettere in evidenza la crisi del settore e sollecitare degli interventi specifici che possono in qualche modo far riprendere l'economia. In altre situazioni il settore dell'edilizia ha funzionato come settore anticiclico, quindi si spostavano investimenti privati nel cosiddetto mattone. Questa volta invece questa cosa non è avvenuta e chiaramente ha determinato problemi ben più traumatici. Un settore messo in ginocchio anche dalla carenza di investimenti pubblici. Occorrono investimenti pubblici per far partire le opere bloccate nel nostro paese e nuove infrastrutture che aumentino il livello competitivo del nostro paese. Bisogna mettere in sicurezza il nostro patrimonio abitativo e fare investimenti importanti per il dissesto idrogeologico. Passiamo alla politica. Continua la sfilata dei big in vista delle elezioni regionali del 24 marzo. Stamane tappa a Matera per il vice premier Luigi Di Maio che nel pomeriggio visiterà un'azienda di Policoro in Basilicata. Anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, mentre Salvini e Berlusconi torneranno nel weekend. Facciamo il punto con Mara Risola. Prosegue la passerella di big nazionali in Basilicata in vista delle regionali del 24 marzo. Dopo Matteo Salvini, nel Materano arriva anche il vice premier Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle, affiancato dal candidato governatore pentastellato Antonio Mattia. Il ministro allo sviluppo economico è arrivato in mattinata e ha fatto visita all'azienda Vim di Matera. Nel pomeriggio visita lo stabilimento di surgelati di Policoro, poi un incontro con artigiani, imprese e associazioni di categoria nella zona artigianale parallela a complanare 106. La prossima settimana Di Maio sarà nuovamente in Basilicata, intanto oggi ha parlato dello sviluppo della nostra regione. Quanto mi riguarda qui l'obiettivo in questa regione non è giocare una partita, è semplicemente far risorgere una regione che è stata totalmente abbandonata sia dalla politica che dallo Stato centrale per decenni. E qui si riparte se si investe nelle infrastrutture. Questa è una regione che ha bisogno di tantissime nuove opere, per uno sviluppo che consenta con strade, reti ferroviarie, porti e tutte le infrastrutture che servono di portare imprese. La Basilicata deve investire nelle imprese per lo sviluppo. E io da Ministro dello Sviluppo Economico ce la metterò tutta nel stare vicino ad Antonio Mattia e a tutti i nostri candidati perché questo territorio ha bisogno di abbandonare la vecchia politica e ricominciare dalle imprese e rimettere al centro il lavoro. Io lo dico ai cittadini della Basilicata, abbiamo una grande occasione. Poi starà a voi, a noi, utilizzarla, coglierla. Però è la volta buona veramente che questa regione finisca finalmente alla ribalta nazionale per le capacità che ha e non per la vergogna che ci hanno messo in faccia tanti politici in questi anni. Anche la coordinatrice di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, arriva in Basilicata a sostegno del centro-destra con la candidatura di Vito Bardi. La leader nazionale è impegnata in un tour tra i comuni di Lauria, Maratè e Rivello a sostegno del candidato governatore. Intanto sabato, sera, comizio in piazza Matteotti a Potenza di Matteo Salvini mentre Silvio Berlusconi nel weekend sarà nel metapontino. E proseguono sulla nostra emittente interviste e confronti in vista delle elezioni regionali del 24 marzo nel nostro palinzesto oggi alle 16. L'intervista di Mara Risola al candidato governatore Valerio Tramutoli con repliche alle 20 e a mezzanotte e 30, alle 16 e 30. Intervista del collega Alessandro Panuccio a Gianni Rosa per la presentazione dei candidati nelle liste di Fratelli d'Italia alle repliche della tribuna elettorale con Gianni Rosa alle 19 e 30 e alle 21 e 30. L'aviosuperficie Enrico Mattei di Pisticci Scalo si avvia a diventare il primo aeroporto di Basilicata. Ieri il Consorzio Industriale di Matera ha approvato il progetto di gara per l'affidamento in concessione per 10 anni dell'infrastruttura. Sentiamo tutti i particolari da Fabrizio Di Vito. L'aviosuperficie Enrico Mattei di Pisticci diventerà aeroporto. Il via libera al progetto di gara per l'affidamento della pista è arrivato dal Consorzio Industriale di Matera proprietario dell'infrastruttura. Il progetto prevede l'individuazione di un operatore in possesso di requisiti di fatturato e di esperienza e delle certificazioni rilasciate da ENAC, l'ente nazionale aviazione civile. Al futuro operatore sarà richiesta non solo la gestione della pista ma di attivare ulteriori attività connesse all'aviazione. Tra queste la scuola di volo per piloti e corsi di formazione delle professionalità connesse come hostess, addetti antincendio, addetti alla manutenzione. Il Consorzio Industriale, oltre ad un contributo alla gestione, 1,75 milioni di euro divisi in dieci anni, metterà gratuitamente a disposizione locale e altre infrastrutture presenti nell'area dell'aviosuperficie tra le quali l'angar e i serbatoi. Il progetto rappresenta la fase 2 del rilancio della pista voluta da Enrico Mattei. Dopo la sperimentazione di questi anni si passa ad un vero piano industriale che l'ENAC ha suggerito a Congro in un tempo non inferiore a dieci anni, obiettivo di fondo della decisione del Consorzio e dunque non l'affidamento della mera gestione, ma la trasformazione della pista in aeroporto. Lo studio di fattibilità collegato al progetto ha rilevato come una corretta gestione della pista unitamente alla messa in esercizio del centro logistico intermodale di Ferrandina e le altre ZES possono costituire un valido elemento di attrazione degli investimenti produttivi da parte degli operatori economici. Alla stessa maniera la pista Mattei avrà un ruolo strategico in tema di infrastruttura di supporto di altri organi istituzionali, prima fra tutte la protezione civile. La gara per l'individuazione del gestore sarà espletata dalla SUAB, la stazione unica appaltante di Basilicata, ente cui per legge spetta di mandire ed espletare la procedura di evidenza pubblica. Il Tribunale di Matera ha disposto la confisca dei beni nei confronti di un cinquantenne di Ferrandina con precedenti perreati contro la persona e il patrimonio nonché imputato per i delitti di usura ed estorsione. L'indagine disposta dalla Procuratore della Repubblica di Matera Pietro Argentino e condotta dal nucleo operativo dei Carabinieri di Pisticci ha permesso di individuare un patrimonio costituito da beni mobili, immobili e disponibilità finanziaria per un valore di un milione di euro. Nello specifico si tratta di otto terreni agricoli, quattro fabbricati, undici conti con istituti finanziari, un'autovettura e un motoveicolo di grossa cilindrata. I beni sono stati affidati all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei beni confiscati che li destinerà prioritariamente a finalità sociali e produttive. Ancora cronaca, ladri in azione nella notte a Genzano di Lucania, dove i gnoti sono riusciti ad introdursi nella sede del Comune a sottrarre circa 6.000 euro. Un fatto grave, ha detto la sindaca Viviana Cervellino, che deve impegnarci tutti nel promuovere sempre la cultura della legalità nelle istituzioni e nella vita di tutti i giorni. Indagini sono in corso. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dopo la pubblicità riprendiamo il nostro Tg e ripartiamo dalla cronaca. Potrebbe essere stato ucciso da un overdose di stupefacenti, un quarantenne trovato morto dalla fidanzata nel suo appartamento in via Niccolo dell'Arca Bologna. L'uomo era originario di Matera da quanto si è appreso. La compagna, una bolognese di 38 anni, lo ha sentito al telefono nel pomeriggio e ha poi trovato il corpo senza vita intorno alle 21.30. Negli ultimi giorni ci sono stati diversi casi di morte per sospetta overdose a Bologna. Parliamo di sanità. Doveva sottoporsi ad un controllo fissato un anno e mezzo fa, ma tre giorni prima arriva la telefonata di disdetta dal CROB. Alla notizia pubblicata sulla Nova del Sud risponde l'oncologico di Rio Nero che si scusa. Allo stato attuale c'è solo un urologo. Sentiamo Luigi, Santo Pietro. I tempi di attesa nelle strutture sanitarie pubbliche hanno sempre fatto discutere, ma annullare una visita medica ad un uomo di 77 anni dopo un anno e mezzo di attesa e con soli tre giorni di preavviso è davvero disumano. La denuncia, piena di amarezza e delusione, arriva dalla figlia del paziente in questione che ha raccontato alla nostra redazione l'incresciosa vicenda avvenuta al CROB di Rio Nero in Vulture. A riscontrare il disagio insieme al parre della signora sono stati in tanti. Una lunga lista d'attese eliminata senza sé e senza ma. Alcuni hanno anche scritto al direttore generale della struttura, ma la situazione non è cambiata. E il perché è stato presto spiegato. In un comunicato stampa il CROB fa sapere che allo stato attuale la presenza di un solo urologo presso l'istituto impedisce il normale svolgimento delle visite ambulatoriali. Da precisare che è stato espletato un avviso pubblico per l'assunzione di un nuovo urologo che dovrebbe prendere servizio ad aprile. E inoltre in corso una procedura di mobilità che, entro fine mese, consentirà di rinfoltire le fila dei medici urologi operanti al CROB. Alla luce di questi due provvedimenti, non appena i nuovi urologi prenderanno servizio, tutti i pazienti che hanno ricevuto la telefonata di disdetta della visita, assicura l'oncologico di Rio Nero, saranno ricontattati per una nuova data. Intervento su una donna di 104 anni all'ospedale di Policoro. La signora calabrese è stata operata alla femore. Il decorso postoperatorio, fanno sapere i sanitari, sta proseguendo senza particolari criticità. La donna, nata nel 1915, è lucida e collaborativa. Esprimo le mie felicitazioni alla famiglia e l'augurio di pronta guarigione all'anziana donna, ha dichiarato il direttore generale dell'ASM, Joseph Polimeni. Grazie al piano di sicurezza dell'acqua, frutto di un accordo sottoscritto tra l'Acquedotto Lucano e l'Istituto Superiore di Sanità, l'acqua fornita agli utenti nella nostra regione sarà sempre più pulita e sicura. Sentiamo Isabella D'Andrea. Rendere l'acqua fornita alle utenze è ancora più sicura grazie ad una serie di controlli preventivi su tutta la filiera, dal punto di captazione a quello di consumo. Questo è l'obiettivo di Acquedotto Lucano, che grazie a un accordo sottoscritto con l'Istituto Superiore di Sanità sta lavorando all'attuazione di un piano di sicurezza che garantirà la riduzione di potenziali pericoli per la salute nell'acqua destinata al consumo umano, in linea con le direttive del Ministero della Salute. In realtà questo accordo, sottoscritto nel mese di dicembre, ha iniziato le sue attività istruttorie proprio qualche settimana fa e istruisce tutta una serie di attività che condurranno Acquedotto Lucano insieme alla collaborazione con Regione Basilicata, con le aziende sanitarie di Potenza e di Matera, l'Egrib e l'Arpab ovviamente, alla stesura di un piano di sicurezza dell'acqua. Questo rapporto di collaborazione è di due anni e iniziamo da tre filiere importanti che hanno rappresentato in Basilicata delle criticità, che sono quelle appunto del Sinni e del Montalbano, quindi della parte del Metapuntino, poi la parte del Vulture e Melfese e la parte dell'Agri, che ovviamente con le criticità e le attenzioni particolari sul petrolio costituisce una particolare attenzione da parte della Regione Basilicata. Mentre finora la valutazione del rischio veniva fatta a posteriori, con il nuovo piano di sicurezza i controlli saranno preventivi, riguarderanno l'intera filiera idropotabile e permetteranno di individuare eventuali pericoli sui quali definire azioni di intervento, in modo da garantire la massima sicurezza possibile sull'acqua, che comunque secondo l'Istituto Superiore di Sanità nella nostra Regione al momento è già sicura. È uno strumento efficace per garantire la sicurezza dei sistemi idrici, la qualità dell'acqua destinata al consumo e soprattutto protezione per la salute del consumatore. È praticamente una valutazione del rischio che viene stesa all'intera filiera idrica, non più soltanto al rubinetto, ma si fa un'analisi di rischio dalla captazione al trattamento al punto di consumo. Dal punto di vista sanitario sappiamo che ci sono stati degli aspetti che sono stati segnalati anche dalla popolazione, ma in realtà noi non abbiamo evidenze di alcune criticità. E poi per quanto riguarda il contesto nazionale, l'acqua italiana presenta per quanto riguarda la conformità dei dati al 99% conformi. Questo nuovo tipo di strumento ci permetterà di fare un'analisi di rischio a 360 gradi, quindi migliorando ancora di più la sicurezza dei sistemi idrici e lavorando sempre di più in emergenza, non in emergenza ma in prevenzione. I carabinieri di Potenza hanno sottoposto a sequestro un'area privata di 200 metri quadrati in località Botte per combustione illecita di rifiuti speciali. Le fiamme sono state avvistate dai militari dal pantano di Pignola. Il rogo, come si vede da queste immagini, ha ridotto in cenere un ammasso di rifiuti consistenti in pneumatici, plastiche, mobili in disuso e reti metalliche. Inoltre è stato sottoposto a sequestro un fusto metallico di circa due quintali pieno di ceneri fredde, per cui altre volte erano stati date alle fiamme dei rifiuti. Il proprietario del terreno, un sessantenne ex imprenditore, è stato deferito all'autorità giudiziaria per combustione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. Le terme di latronico diventano del comune. Con un protocollo di intesa firmato a Potenza, sono stati definiti tempi e modalità per il trasferimento della proprietà dalla regione all'ente locale. Sentiamo Rocco Romanelli. Siglato a Potenza è un protocollo di intesa per definire le modalità e i tempi per il trasferimento della proprietà del complesso termale La Calda dalla regione Basilicata al comune di latronico. Ad apporre la firma al documento, che prevede che venga avviato l'iter anche per la cessione delle opere di captazione delle acque termali, delle relative condotte di adduzione della sorgente, dei beni mobili e delle attrezzature, la presidente facente funzioni dell'esecutivo regionale della Basilicata, Flavia Franconi, e dei rappresentanti della giunta comunale di latronico. Il trasferimento in proprietà del comune di latronico del locale centro termale, che opera per circa 8.000 utenze, dal lavoro a 30 persone ed eroga tra maggio ed ottobre circa 150.000 prestazioni, era stato disposto dalla legge di stabilità del febbraio 2016. Il trasferimento della proprietà dalla regione Basilicata al comune di latronico, ha evidenziato la presidente facente funzioni, Flavia Franconi, è stato disposto nell'ottica della semplificazione. I rapporti con il soggetto gestore del centro termale, ad esempio, saranno curati direttamente dall'amministrazione comunale di latronico, mentre fino ad oggi erano di competenza unicamente della regione Basilicata. Ci saranno quindi passaggi in meno che renderanno più agile la gestione della struttura che dà lavoro a 30 persone e che è in continua crescita. L'intento, ha detto ancora la Franconi, è creare nel prossimo futuro le condizioni per espandere l'offerta del centro termale di latronico anche verso clienti provenienti da altre regioni. Il trasferimento della proprietà del centro termale al comune di latronico avverrà entro 12 mesi. A Marsicovetere il 22-23 marzo arriverà la carovana dello sport integrato che partirà domani da Roma. 72 atleti disabili a bordo di 4 pulmini toccheranno in 40 giorni tutte le regioni italiane per promuovere l'accoglienza delle diversità. Lo scopo del progetto premiato dalla Presidente della Repubblica è proporre un nuovo strumento di interazione e di inclusione sociale. Ed è tutto per questa edizione, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.